Gli investigatori cercano di chiudere il cerchio attorno alla morte di Paolo D'Amico, il 55enne, dipendente dell'SM, trovato morto a casa sua, nella casa di legno, nel comune di Barisciano. Si scandaglia sulle frequentazioni di D'Amico. Un lavoro non facile per i carabinieri del reparto operativo. Pochi erano infatti i contatti che aveva l'uomo, che conduceva una vita molto riservata. Al momento l'indagine per omicidio volontario è ancora contro i gnoti. Ci sarebbe qualche sospettato il condizionale all'obbligo, ma di più non se ne sa. Intanto i militari ieri in Morghese hanno fatto visita per alcune perquisizioni nella sede dell'SM a Bazzano. Sono state ascoltate delle persone come informate sui fatti, una decina di persone in tutto, tra dirigenti e impiegati dell'azienda municipalizzata, per capire un po' meglio la vita di Paolo D'Amico e le frequentazioni che aveva. A quanto se ne sa, D'Amico non aveva cattivi rapporti con nessuno. L'obiettivo degli investigatori è anche capire se ci sia un collegamento tra la morte dell'uomo e le piantine di marijuana trovate a casa sua. L'uomo infatti non aveva precedenti penali. E si cerca anche di capire se avesse contratto un debito non restituito per terminare i lavori edili alla sua casa di legno. L'autopsia intanto è stata fatta dai medici Giuseppe Calvisi e Cristian Dovidio. Una lunga autopsia che ha confermato come uccidere il 55enne siano state le coltellate e non i colpi di martello in testa. Gli assassini dalle tante valutazioni fatte dovrebbero essere stati almeno due. L'uomo sarebbe stato ucciso fuori e poi trascinato dentro casa. La salma non è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.